Questo del clima è una fake news? Molti dicono sia sempre stato così. Sempre così quando, ma se otto generazioni fa il mondo nemmeno esistiva e si fa presto fare i conti, perché Adamo generò set, set generò cam, cam generò... Possiamo streggere per piacere e parlare di questa grande nave da crociera che sta costruendo. Ah, l'arca, tre piani, grandissima, con le camere vista a mare. A buoni prezzi? Beh, direi che costano l'ira di Dio! Per ogni animale ha preso un maschio e una femmina. Non è discriminazione di genere? Ma per piacere lo sanno tutti. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla nel cielo l'arcobaleno. Gli animalisti si sono sollevati contro di lei per le condizioni in cui li fa stare. Si può sapere che animali ci sono nell'arca? E guardi, ci sono due coccodrilli ed un orangotango. Due piccoli serpenti e la cui la realità... Il gatto il popolo è elegante, non manca più nessuna, solo non si vengono il cuore il cuore il cuore.